beh ragazzi eccoci qua un altro video di sigma svapo oggi voglio portare sul canale una innovazione quello che vaporart e jazz fogg hanno progettato insieme hanno sviluppato insieme e ragazzi è uscito questo grandissimo prodotto la mini fit max ma non voglio perdermi in chiacchiere nell'intro di questo video ma andiamo a vederla subito nel dettaglio nel tavolino bene ragazzi eccoci qua davanti alla confezione dove contenuta appunto la mini fit max come possiamo leggere la scritta vaporart che appunto è stata ideata da loro la scritta vaporart pod sviluppata appunto da vaporart prodotta da jazz fogg vediamo subito che togliendo questa parte in cartone dovete sfilarla in questo modo andiamo subito a leggere mini fit max kit la scritta jazz fogg con lo scratch and check per l'originità del prodotto e possiamo intravedere come nella vecchia mini fit la pod qui in alto e la batteria che questa volta ragazzi è stata veramente sviluppata bene e possiamo già vedere la dimensione che è molto più lunga della piccolina continuando la parte destra della scatola troviamo la scritta mini fit max kit e tutto il contenuto della scatola i vari marchi lo smaltimento e il cielo sulla parte retrostante abbiamo la scritta importato da vaporart i vari siti il telefono e un numero identificativo aprendo la scatola ragazzi in questo modo andiamo a sfilare il contenuto della scatola e nella scatola ragazzi non troviamo altro che tutto il manuale che mini fit ci ha sempre abituato a trovare lunghissimo e grandissimo delle sue specifiche della pod e qui davanti in questo pacchettino di polistirolo di plastica comunque che sia troviamo il cavo micro usb usb per la ricarica della pod la batteria ragazzi che questa volta come nelle specifiche è da 650 milliampere garantiti possiamo già vedere ragazzi che è veramente molto più lunga rispetto alla piccolina ma dopo andremo a farla a confronto leggiamo la scritta mini fit max su questa parte il tasto di accensione spegnimento che con i soliti quattro clic andiamo andremo ad accendere spegnere i tre led come nella piccolina e ragazzi non ci sono altre differenze qui appunto troviamo anche la presa micro usb per la ricarica e qui l'alloggio della pod continuando appunto andando sfilare qui in alto avremo la pod che togliendola ragazzi è praticamente identica sia come misure sia come dimensioni della vecchia piccolina quindi hanno voluto tenere questa accoppiamento per facilitare anche l'acquisto del cliente a trovare le pod per la mini fit max quindi andrà andiamo ad inserirla e vedete ragazzi che la mini fit max è completamente assemblata e questo è il risultato andiamo avanti ragazzi quindi ad inserire nella nostra pod che ci danno in dotazione nella mini fit max il nostro liquido io ragazzi come liquido utilizzerò il messico della dea quindi non facciamo altro che andare a stappare come nella vecchia mini fix in alto le due asole che ci permettono la ricarica del liquido prendiamo il nostro liquido inseriamo e andiamo a ricaricare e ragazzi essendo comunque la prima volta che riempiamo la testina aspettate i classici 5 8 minuti che il cotone si bagna a dovere quindi andiamo ad inserire la pod nella mod e questo ragazzi era tutto dalla mini fit max bene ragazzi eccoci qua per le considerazioni finali devo dire ragazzi ottimo lavoro a vapor art ea jazz fog perché a parer mio hanno veramente tirato fuori un prodotto bomba la mini fit max non ha nulla da invidiare alla mini fit normale perché comunque già mini fit era un prodotto piccolo portatile che pregazava soltanto 15 grammi qui ragazzi hanno fatto veramente l'innovazione perché con 15 grammi in più sono riusciti a portare 650 miliamper ora di batteria che ragazzi vi durano tutti la giornata cioè qui io mi metto nei panni di uno che vuole smettere di fumare e con questo prodotto ce la fa è veramente possibile io ieri ragazzi l'ho usata tutto il giorno e sono arrivato a sera e ancora avevo batteria con il nuovo chip non riuscite a percepire la scarica della batteria mentre con la piccolina quindi la mini fit vecchia si riusciva già a capire quando la batteria stava iniziando a scaricarsi quindi il tiro era molto più leggero qui ragazzi è stato fatto un veramente un ottimo lavoro e non hanno neanche stravolto la vecchia forma quindi la vecchia dimensione che aveva mini fit ma hanno semplicemente allungato il prodotto ma purché non è lungo come due mini fit vecchie ma è rimasto comunque molto più piccolo come dimensioni e l'abbiamo vista il packaging è sempre quello non c'è nient'altro di diverso una piccola particolarità che io non ho potuto farvi vedere nel video è che jazz fog o meglio vapor art vi dà la possibilità di provare i nuovi tre tabacchi che ha proposto con la mini fit max a diverse gradazioni di cotina dove voi trovate le due pod già pre ricaricate dei di questo bus che volete a scegliere di tabacco e una volta finito il liquido non fate altro che continuare a ricaricarla con il vostro liquido preferito e non dovete buttarla via finché ovviamente non si usura la resistenza ma ragazzi andiamo a provare questa mini fit max devo dire ragazzi che pur avendo la vecchia testina che hanno voluto ottenere dalla mini fit quella vecchia la piccolina parlo sempre di lei quindi un ml e mezzo di capacità della pod la pod è sempre rimasta uguale per anche agevolare i vecchi utilizzatori di mini fit quindi quella piccolina la vecchia a non stravolgere questo mercato quindi danno la possibilità di utilizzare le testine di quella vecchia anche sulla mini fit max cambia soltanto ragazzi il corpo della batteria quindi della pod in sé che ovviamente è maggiorato in questo caso ma ragazzi funziona veramente bene io la consiglio ovviamente essendo già stato un ottimo traguardo per mini fit avere questo prodotto ragazzi avere la mini fit max è d'obbligo mi viene da dire perché funziona bene non ci trovo nulla di male ad avere tutte e due perché magari io ragazzi in questo periodo me le sto portando tutte e due con la mini fit vecchia ad avere una nicotina magari più bassa e con quella la mini fit max ad avere una gradazione più alta magari dopo il caffè vi potete sparare un 14 di nicotina dopo una cena quindi potete giocarvela in questo modo e avere due diverse gradazioni da poter arrivare a fine giornata ma comunque con anche soltanto la mini fit max ragazzi arrivata a fine giornata e ve lo garantisco è gestita molto bene la batteria non sentite grazie al chip innovato innovato la scarica della batteria quando si sta iniziando a scaricare e vi riesce a garantire sempre la stessa scarica di batteria quindi non avete il calo quindi ragazzi non mi resta che dire che la mini fit max funziona bene è costruita sempre bene complimenti a jazz complimenti anche a vaporart per questo grandissimo prodotto quindi ragazzi non mi resta che salutarvi cliccare mi piace al video se vi è piaciuto iscrivervi al canale cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno e ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi